Nel 2022 ovviamente registriamo dati positivi in tutti i settori, nel turismo, un'economia domestica che comunque ha tenuto e attirato. Ovviamente il 2023 che ha avuto un inizio molto positivo ovviamente sta dando segnali verso la conclusione dell'anno un po' più negativi. Naturalmente in tutto questo incidono le tensioni geopolitiche, incidono ovviamente i costi delle materie prime, incide molto il costo del danaro. Uno scenario incerto per le tensioni geopolitiche da un lato e le condizioni finanziarie sfavorevoli per le famiglie ed imprese dall'altro. Anche in provincia di Arezzo si registrano così gli stessi segnali di rallentamento evidenziati per l'economia mondiale. Alla borsa merci un momento di riflessione sui dati dell'economia eretina che arrivano dalle camera di commercio. Dunque continua a crescere l'agricoltura ormai sopra i livelli pre-pandemia e il settore dei servizi. Segno negativo per l'industria, brusco rallentamento poi anche per le costruzioni, complice la riduzione degli incentivi. Resta invece forte il dato dell'export provinciale che rappresenta il 18,8% del totale regionale per un valore che supera gli 11 miliardi. Siamo la prima provincia in Italia addirittura per incidenza di export sul valore aggiunto e questo export è caratterizzato dalle nostre specializzazioni produttive oro e moda. In particolar modo si segnala un raddoppio della gioielleria e dell'oreficeria dal periodo pandemico ad oggi e invece una flessione per quanto riguarda i metalli preziosi complice sicuramente un andamento anche del prezzo dell'oro abbastanza incerto. Testimoniano come questo è un distretto di grande rilievo che ha saputo anche gestirsi nella flessibilità e nel dinamismo di alcuni mercati che sono anche cambiati nel frattempo e quindi hanno visto il presidio intelligente di questo settore maturo, organizzato e strutturato per posizionarsi. Sulla base dei dati relativi all'indagine istata sulle forze lavoro in provincia di Arezzo nel 2022 sono presenti circa 149 mila occupati, 3.500 in più rispetto al 2021 e 6.000 al 2020. Segnaliamo un aumento del tasso quindi di occupazione, una diminuzione del tasso di disoccupazione che è inferiore sia al dato regionale che a quello nazionale e anche un incremento del tasso di attività. La giornata dell'economia è stata anche l'occasione per fare il punto sul rapporto Arezzo 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'agenda ONU. Cerca di descrivere la situazione della provincia di Arezzo in termini di sostenibilità raccogliendo indicatore a livello locale sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Ci sono come tutti gli anni degli obiettivi in cui ci sono delle luci, ci sono dei grossi pregi e qualcuno in cui invece ancora siamo un po' indietro. Le luci maggiori sono sul benessere generale della provincia. I dati un po' meno brillanti a livello di provincia di Arezzo riguardano un po' tutto quello che è l'attenzione alla sostenibilità ambientale.